Il soffiatore oleomac bv 162 è una macchina professionale con il suo motore da oltre 60 centimetri cubici di cilindrata. Ha una portata di aria di 20 metri cubi al minuto è un soffiatore portato a zaino spalleggiato e i comandi sono disposti sul pratico maniglione lungo il tubo. Provedere a montare il tubo di soffiaggio. La prima parte è avvitata al gruppo motore le altre due parti sono semplicemente inserite ed incastrate facendo ruotare un po' il tubo in fase di montaggio. Ci sono un paio di fascette con velcro che bloccano il cavo di comando tenendolo aderente alla macchina. Inserire la miscela di carburante nel serbatoio da 2,3 litri. In caso di uso intensivo provvedere a rimuovere e pulire o sostituire il filtro aria. Procedere all'accensione premendo più volte il primer in gomma e chiudendo la levetta dell'aria del carburatore. Azionare la leva a strappo un paio di volte non insistere oltre prima di avere riaperto la levetta dell'aria e da qui riazionare la leva a strappo finché riparte. La levetta dell'aria è un po' il